amici benvenuti su infonews questo è un momento dedicato all'intervista siamo in contatto diretto più che diretto proprio a fianco a me abbiamo un personaggio simpaticissimo poi lo deciderete voi se è così quello che io vi dirò è antonello ricci inquadriamolo così lo vediamo eccoci qua sei tu sei tu sei tu sei tu sei tu no perché è simpaticissimo va bene benvenuto a torrello benvenuto grazie assai diciamo per per l'ospedale per essere sempre ospedale con me diciamo in tutte le cose parliamo di una tua bellissima realizzazione di un film che è uscito proprio in questi giorni e questo film finalmente possiamo vederlo parlaci un po di questa storia perché perché dico perché quel nulla demente di antonello ricci e secondo te uno che guardando mi diciamo non non esce spontaneo di anche se non sa il titolo del film che guardando antonello ricci guardando che cosa vi ispirare che titolo può ispirare una cosa un personaggio che non ha niente da perdere è uno che non ha niente proprio e basta diciamo diciamo l'unica cosa che ti diciamo il cervello ma è un scatto abbiamo una locandina che alla nostra sinistra noi possiamo già inquadrare è un'esclusiva di bluestar tv sul canale 16 del digitale terrestre antonello ricci con puntate in miniserie tante risate il ciuffettino alla bebè sono 12 puntate 12 puntate il lunedì il mercoledì e venerdì i giorni disperi praticamente quando non avete niente da fare potete tranquillamente sintonizzarvi sul canale 16 del bluestar tv che è un canale digitale terrestre che ora alle 21 alle domani di sera praticamente nel mercoledì dicevamo alle 21 quando ha detto alle 21 mi sono ricordato le domani di sé nel caso qualcuno dovesse perdersi qualche puntata in tutto questo lungo periodo di 12 mini serie e spieghi ed ecco volevo dire perché per lui anche a luglio a luglio abbiamo le abbiamo quindi lunedì mercoledì i lunedì i mercoledì e venerdì alle ore 21 alle 21 di sera per quattro settimane dal mese di maggio al mese di giugno le potrete seguire tranquillamente tranquillamente a luglio le repliche altrimenti ne state proprio scattati proprio completamente oppure ditelo chiaramente non mi volete vedere allora se non mi volete vedere non mi volete vedere invece è così invece è così soggetto e ideazione di antonio ricci antonio ricci perché antonio ricci perché del pantonello perché antonio è il vero nome alla nalga febbiciano per come quando sono nato io che non dovevo nascolo purtroppo ci sono il 13 giugno verremo qui a farti gli auguri a sant'antonio quindi antonio ricci è il mio nome d'arte che mi chiamano da piccoli la sceneggiatura la sceneggiatura di donata frisini la regia mimmo mastandrea attori attori diciamo quelli che ti ricordano mi raccomando se qualcuno se ne dimentica non è colpa mia ma è colpa sua perché lui è quel nulla di mente che è l'idea tornare il ci hanno vabbè antonio ricci sono il protagonista insieme con chi caprisini donata la nata frisini lia c'è la mare franco de giglio giustina buonomo e diciamo e vanessa del icono lino del nicolò pino fusco e aspettami di nicola noiacono e due diciamo di altri due personaggi del altri due tre personaggi vito cassano un paio delle battagliere pur lo vito 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 ma chi è? ah vabbè chiaramente quel mio compagno di vita diciamo di vita diciamo ce la facciamo insieme vita antonio marzelli quelli che ha dimenticato sempre colpa sua e vogliamo anche dire ai nostri amici che stanno seguendo questa intervista video perché oltre a vederci potranno anche ascoltarci c'è anche molto bello questo su 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 canale 93 oppure eventualmente su info news la città di frani in diretta ci potete seguire online perché noi siamo in streaming in tutto il mondo oggi dicono queste parole on the world e io non capisco i termini tetto perciò di però dire che noi siamo streaming streaming no ma tu hai un account tu hai un account c'è un account che se tu c'è l'account è un nome c'è un un account un profilo c'è un profilo è un poco scattato no ma voglio dire un profilo su un social network eh si 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 ho comico antonio lorici ah ce l'hai si ce l'hai comico lo deciderete voi condividetelo poi eventualmente andate su una pagina che abbiamo a poc'anzi inquadrato voi chiedete l'amicizia pagando diciamo no allora non c'è da pagare niente assolutamente no pagando io a loro ingresso libero ingresso libero e io vi parlò fatemi sapere quanto e vedi vi do i soldi basta che mi dite una domanda come mai hai scelto di andare in tv e questa volta bluestar tv perché era lui che l'ha accettato la sincerità voglio dire ha creduto in te ha creduto l'unico ha creduto no devo dire ha creduto in me molto il regista mimo ma sta andrea che ci sappiamo ciò mi chiamo che oltre è un peso grosso penso proprio dopo il peso gruppo più e grace pro e però è bravo e cosa ha creduto in me come a parte gli scherzi ha creduto in me anche così dove è stato ambientato tutto questo film a precisarlo il film inventato a trani solo che ci sono delle scene diciamo in puglia dove ho voluto comunque sempre nella provincia di pari ecco come inizia questo film benvenuti a trani città della pietra comincia comincia con una sigla iniziale mia come come qual è qual è il re del valvozio sentiamo io da piccolino che ho cominciato a paventare e tutti dalle risate scomigiavano a creare allora ho pensato che dovevo pensare che una soluzione dove dovevo trovare si è detto dice che lo zon possa ballare il balbutiere sa cagà sa cagà sa cantare allora ho capito che per riuscire a parlare dovevo cagà cagà cantare e ripari grazie appuntamento con il nostro antonello ricci con quel nulla demente di antonello ricci su blu star tv canale 16 canale 16 digitale terrestre extra terrestre quando è scirocco così ma è brutto vicina anzi oggi sto andando bene lunedì mercoledì e venerdì ci sta prendendo l'amore che vanno a cantare agliare oggi lunedì mercoledì mercoledì quattro settimane a luglio alle 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 21 cioè alle 9 di sera tu non hai far capire per le cose mi raccomando quella è in una tata in una tata in una tata in una tata a riprendere ecco grazie sta facendo una maniera che la nostra camera band ha ripreso tutto anche se noi ci dovremmo riprendere noi dallo shock baci a rivederci alla prossima occasione film ambientato a trani canale 16 blu star e cosa è vittorio casinesi diciamo e antonello ricci con il suo soggetto importante ricordato quel nulla demente di antonello ricci grazie a tutti e alla prossima occasione ciao perché hai voluto precisare antonello ricci mani 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 ma vediamo